Buongiorno, buongiorno, come state? Benvenuti in un nuovo Family Vlogmas, siamo tornati a casino Cioè siamo, in questo momento ci sono solo io a casa Perché i miei sono a scuola e li stiamo aspettando perché oggi sarà un Family Vlogmas super speciale Che non vedevo l'ora, cioè lo aspetto tipo da tutta la vita Adesso vi dico che cos'è però l'avrete capito dal titolo Invece Ale è andata a fare una commissione e io stavo cercando di limarmi le unghie perché sembra che siano maledette, erano terribili, questi giorni poi le sistemo e magari faccio una manicure per Natale comunque benvenuti in un nuovo Family Vlogmas, questo sarà l'episodio numero 3 e oggi andremo a comprare gli addobbi per la casa e anche l'albero nuovo per addobbare tutta la casa, il nostro primo Natale qui in casa nuova io sono super emozionata veramente, cioè aspettavo veramente da tutta la vita questo momento avere una casa mia, addobbarla piano piano perché comunque serve tempo però sono super 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 emozionata di andare a cercare gli addobbi, l'albero nuovo con i bimbi sceglierlo insieme, infatti aspettiamo i bimbi che escono da scuola penso che andremo da Maison du Monde che ha sempre delle cose bellissime, veramente bellissime commentate qui sotto se anche voi amate Maison du Monde, non te le regalano eh però sono fatte bene, poi durano nel tempo, io tutto quello che ho comprato da Maison du Monde negli anni è sempre rimasto quindi penso che andremo da lì, da lì, andremo lì ormai l'italiano è andato, poi vi racconterò anche come è andata Fuerteventure insomma questo nuovo family vlog sarà un po' chiacchiericcio, andremo un po' in giro insieme e poi tra l'altro stavo anche impacchettando un regalino perché più tardi andremo a bere un caffè con un nostro amico che viene a trovarci, l'avete già conosciuto qualche anno fa e stavo impacchettando un regalino da darli, aspettate che vado a finire ve lo faccio vedere come l'ho impacchettato benissimo, qui al ritorno abbiamo trovato i due pacchi e questo è il pacco della mia casella di posta che devo ancora aprire e questo è il mio ordine di prozis e qui vedete qua avevo tirato fuori un po' tutte le cose natalizie che abbiamo, questo qua no, questo arriva da Fuerteventure il nostro alberello marittimo se ci hai seguito su instagram lo avrete già visto, queste sono le scatole con tutte le cose natalizie e questi, questi sono arrivati, questi non vedo l'ora, questi sono per i bimbi pelosi qua ci sono delle cose che ho comprato da Zara prima di partire, non c'entrano niente e qua c'è l'albero, l'albero quello vecchio che abbiamo sempre avuto che però non abbiamo la base quindi finché non trovo la base ma tanto io volevo comunque prendere un albero nuovo anche perché domani consegnano il divano, mamma mia, finalmente arriva il divano in tutto ciò io ero venuta qua per farvi vedere il mio pacchetto, no che si è aperto, mannaggia no, vedete che brava, super super tattico, adesso magari ce ne metto un'altra di questi di questi adesivi, qua ho tirato fuori le cose per la letterina che le faremo in questi giorni perché sennò Babbo Natale non la riceve ed è un problema, quindi chiudo il mio pacchettino dai è ancora chiuso, sono contenta, no si è aperto, mannaggia comunque io sono super estiva oggi perché siamo tornati al calduccio finalmente c'è una giornata splendida qui alla Spalmas, vado a raggiungere Ale che è già con il nostro amico così ci facciamo gli auguri di Natale perché poi lui torna in Italia penso e poi ci scambiamo i regalini, quindi li vado a raggiungere eccoli qua che belli che siete, ciao, celtic, in onore del boss, da bacione, questo mi faccio molto contento espresso, para mi, suco, no nada, il caffè solo descaffeinato, suco, vale, grazie, i caffeinomani sì, anche se il mio è descaffeinato perché ho già raggiunto il limite dei tre tu niente caffè? l'hai già preso? l'ho preso? l'ho preso? l'ho preso? ops aspetta che faccio anch'io questo cioè, eh, vedi, non hai dei problemi, è un problema, ogni volta si appiettiscono di qua no, io li ho dovuti tagliare così perché ad Arinaga c'è vento a Fuerteventura non ti dico, comunque c'è un pensierino perché è la mia schietta se riesci a prenderlo io spero sia ancora chiuso, no, si è aperto vabbè, Merry Christmas, grazie è una cosa che io so che tu volevi effettivamente il nome lo conosco che figata sì bello e gli abbiamo preso la borraccia iRap iRap come, ci sono le istruzioni per aprire sì, sì, sì per chi non sapesse che cos'è, iRap è la prima borraccia al mondo brevettata che dà sapore all'acqua senza aggiungere niente perché il sapore arriva solamente dal naso, dall'olfatto retronasale tra l'altro io so che a te che bella vero? sì tra l'altro io so che a te ti piacciono queste cose questo lo puoi cambiare ah sì? con i colori che vuoi sì sì va quindi mettiamo il polo con la faccia verso l'alto sì, con la faccia verso l'alto incastiamo bene sì e poi lo tiri su lo tiri su per attivarlo però così? esatto ah, ok sì, e adesso bevi senza inclinare la bottiglia importante sì, così vai eh minchia, so di... ok, è buono cacchio, è figo preziona caldo la senti? no, eh sì, è interessante ed è acqua è solo acqua perché comunque bevi l'acqua però ha il sapore di quello che stai andando ma si sente un sacco si sente tantissimo se state cercando anche voi i regali di Natale vi lascio qui sotto il link di iRap con la promozione tra l'altro ne stanno facendo tre per Natale tre offerte e vi lascio anche il mio codice sconto vittoria gift che potete utilizzare su tutto ciò che non è in offerta nel caso vi piacesse se volete regalarlo alla vostra amica, vostra cugina, vostra mamma sarà super gradito ve lo sicuro c'è Dante che annuisce sbacca come sei natalizio con questa magliettina non sono riuscito ad essere natalizio l'altro giorno quando eravate tutti rossi mi rifaccio oggi adesso ti rifai comunque stiamo andando un attimo da Zara Home a fare una piccola perlustrazione perché dopo andiamo da Maison du Monde come vi dicevo per vedere che cosa hanno perché poi Maison du Monde è dall'altra parte io l'amo Maison du Monde sì io l'amo la follia guarda siamo anime gemelle perché io ho detto la stessa cosa no no io proprio l'adoro è bellissimo sì però è cara è cara una volta abbiamo fatto l'errore siamo andati prima da Maison du Monde e dopo siamo andati in un grande magazzino cinese ora io non ho niente contro i grandi magazzini cinesi anche perché a me è piaciuto un sacco però se ci vai dopo che sei andato da Maison du Monde tutto ti sembra che faccia schifo sarà tutto bruttissimo cos'è che vorresti fare? montare l'albero tantissimo non ce l'abbiamo l'albero amori eh no non trovo la base però ti posso dire una cosa bella che adesso tra poco usciamo e andiamo a comprare un albero nuovo oggi? sì tira via la mascherina voglio vedere la casa tanto tanto andiamo a comprare l'albero nuovo amore grazie mamma amorino andiamo a prendere l'albero Natalizio e stranamente andremo in un posto dove oltre a Maison du Monde c'è anche Primark e finalmente magari troviamo qualche pigiamino natalizio mi sei fatta un cicchetto mi sei fatta un cicchetto amore con il mio amore si andiamo alla Zarelas no non mi sono fatta cicchetto perché ovviamente io sono in digiugno intermittente mi piace un sacco cioè io ho trovato proprio la mia pace io mai avrei detto nella vita mai avrei detto anche solo di poter saltare la colazione eppure proprio non te ne accorgi no no c'è proprio un'altra ho proprio trovato la pace dei sensi e sto dimagrendo si cavolo infatti Dante si infatti Dante che non lo vedevamo da tanto ti ha detto che a me non me l'ha detto però a te non te l'ha detto a me subito vabbè comunque ho messo anche non è che ti svegli l'amore che ti mangi di Mikado no ho messo buoni Mikado ho messo un post su Instagram dove vi ho raccontato un po' com'è andata la vacanza Fuerteventura con il digiugno intermittente perché l'abbiamo seguito tutti i giorni senza sgarri senza sgarri senza ristoranti mille ristoranti zero penso sia la prima volta la prima volta sì comunque Fuerteventura invece due parole su Fuerteventura intanto che andiamo a prendere Seba che c'è qua il cambio due parole su Fuerteventura niente il silenzio è calato il gelo ma allora allora il posto è Instagram Island perché ha degli scorci stupendi che se devi fare le foto su Instagram mi dici Luca dove sei andato infatti 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 una delle cose che dicono su Fuerteventura le Maldive sì in America da Parigi le Maldive no no allora il mare ha quei colori bello azzurro però fa freddo c'è molto vento quindi è il posto ideale secondo me per gli sport acquatici giustamente noi dovevamo andare a vederlo perché siamo qua il kitesurf è il paradiso è il paradiso ma Ricky puoi parlare anche tu Fuerteventura ti è piaciuta o non ti è piaciuta? molto mamma molto 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 più bella Fuerteventura o Lanzarote? Lanzarote però a Fuerteventura mi è piaciuta ma perché lui si è divertito sul legume non so che ha visto le stories sì sì perché poi lui si è buttato anche in acqua a meno 20 cioè per me è meno 20 no ma faceva freddissimo lui è proprio Canario dentro sì sì guarda papà mamma la super bomba che io avevo freddo solo a vederlo a me il mio stomaco si rivoltava solo a vederlo comunque sì per le famiglie per voi che ci seguite che magari avete bambini io non ve la consiglio sinceramente Fuerteventura vi consiglio Lanzarote o Gran Canaria cioè qua veramente siamo tornati o anche Temerife o la penisola o la penisola o tutto il resto del mondo allora un consiglio qualsiasi parte del mondo tranne Fuerteventura e Italia e Italia Ricky mi ha detto di andare con lui in Italia sì e io e tu no metti in carica la videocamera ah si sta scaricando Ricky è eccitatissimo wow bella ti piace questa? molto con gli alberi la neve le stelle va bene comunque amore ho chiesto non hanno alberi qua non vedono alberi? no ho chiesto ho detto che non ne hanno ne hanno solo così mi ha indicato quello tipo quelli e guarda proprio che se ne possono afferire non è quello che cercavamo ma stiamo entrando da Carrefour sperando di trovare di trovare l'albero sono un po' spelacchiati c'è spelacchio proprio come lo volevo io mamma mia sono un po' bruttini per ora siamo ancora senza albero ma con un po' di shopping natalizio finalmente è la nostra ultima possibilità ultima abbiamo trovato da molto una mamma abbiamo trovato Ricky era terrorizzato dal non trovarlo ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo è il ballo dell'albero sono troppo contento guarda se lo prende anche lui si prendilo Ricky che forzuto ce l'abbiamo oramai ero sicuro che non l'avremmo trovato missione completata tenemosi il nostro nuovo albero di Natale adesso lo dobbiamo solo decorare scegliere il colore più che altro quindi consigliateci un colore per addobbare il nostro primo albero nella nostra casina nuova lasciate qui un commento così poi andremo a comprare tutte le nuove decorazioni la stella ad ora non vedo l'ora di vederlo finito io vi mando un super bacio questo nuovo family vlog ma se è terminato ci vediamo prossimamente con un nuovo episodio ciao